Domenica 8 novembre alla Riviera Park sulla 7 Jane, l'associazione italiana Cuochi farà la sua diciottesima festa d'autunno dove i soci dell'associazione presenteranno delle specialità e con un minimo di 50 dollari un biglietto potete avere tutto compreso e incomincia alle 12 e 30 e tutti sono benvenuti se vogliono fare veramente una passeggiata gastronomica con tutte le specialità italiane sulla piazza